Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizione di Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV del mattino. Sono le 7.30 per chi ci segue in diretta, un cordiale saluto e salutiamo anche tutti quelli che ci seguono in replica, in replica soprattutto fino alle 8.30, poi alle 9.10, alle 13.30. Allora andiamo a vedere il santo di oggi con il calendario che ci segna un nome, il nome di una santa italiana, Santa Maria Bertilla Boscardin, forse dal cognome avrete già capito che è Veneta, è nata infatti in provincia di Vicenza, è morta a 34 anni nel 1922. Il sole è sorto alle 7.30, tramonterà alle 6.25 di questa sera. Il cielo oggi sarà ancora parzialmente nuvoloso con possibili occasionali brevi piovaschi, brevi rovesci, temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. I venti saranno di brezza tese, il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di questa sera, di domani, venerdì 21 ottobre, il cielo domani sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti anche intensi, mentre in alcune località ci saranno delle schiarite, soprattutto il pomeriggio a nord della regione. Avremo deboli precipitazioni locali al mattino sparse durante la seconda parte della giornata, in particolare al centro-sud della regione dove saranno addirittura a carattere di rovescio. Per la giornata di sabato 22 ottobre invece il tempo migliora, non ci sono piogge previste, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Oggi i giornali mettono in evidenza la spaccatura, la rottura che c'è all'interno del Partito Democratico tra il Presidente della Regione Luca Ceriscioli e il Sindaco di Pesero Matteo Ricci, due pesi comunque importanti, due pesi da 90 che sono nello stesso partito, il Partito Democratico. E su questo aspetto ovviamente l'oggetto del contendere è l'ospedale unico e la scelta di costruirlo da parte della regione a Fosso Signore. Su questo aspetto puntano i giornali questa mattina con delle foto che sono che raccontano e dicono tutto. C'eravamo tanto amati, titola così il resto del Carlino di questa mattina. Luca Ceriscioli si divide da Matteo Ricci, si ricomincia da dove eravamo arrivati sei anni anni fa e poi invece il Corriere Adriatico Ceriscioli e Ricci separati in casa. L'ospedale di Marche Nord in crisi l'asse pesarese. Sull'operazione adesso ci sono anche i dubbi del Partito Democratico. Sindaco e partito contro Fosso Signore no alla variante. E allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere Adriatico con l'ondata di protesta che adesso diventa trasversale. Il gruppo di Facebook, quello che ha raccolto già 10.000 like, 10.000 mi piace, celebra il funerale di Chiaruccia e contesta l'algoritmo ospedale unico dai Cinque Stelle a Fratelli d'Italia, l'appello al Sindaco di Fano Massimo Seri per il modello policentrico. Quindi in sostanza ormai questa storia di Chiaruccia possiamo dire e possiamo già sotterrarla. Non c'è credo ormai più speranza per questo sito che tanto aveva spinto il Sindaco di Fano e quindi anche il gruppo di Facebook, anche questi 10.000 che hanno aderito a questo gruppo chiedono al Sindaco di sposare il modello policentrico, ovvero nel caso specifico di Fano di potenziare, di spingere per il potenziamento dell'ospedale di Fano. Tutti contro la scelta di Fosso Signore, gli ambientalisti sul piede di guerra, la segretaria della CGL dice davvero una decisione folle, si compattano tutte le minoranze che preparano una mozione antisito per sfida di dare al voto. Il Partito Democratico, il segretario provinciale del PD, Gostoli, dà la colpa al Sindaco di Fano e dice Ricci, al contrario è più costruttivo. I comitati da Fossombrone, prima il nuovo piano sanitario, appello del coordinamento a partecipare sabato alla marcia di protesta che si terrà alla loggia dei mercanti di Ancona. E poi, l'altra pagina ancora, Ceriscioli e Ricci separati in casa sull'ospedale Tremalasse pesarese, il presidente sdogana Fosso Signore, il sindaco e il partito si ribellano e dicono la variante non passerà. E poi l'articolo, sempre sulla pagina del Corriere, la maledizione della rappresentanza. Vedete Ceriscioli e poi l'ex assessore alla sanità Mezzolani. La maledizione della rappresentanza quando nel 2010 Almerino Mezzolani fu nominato dall'allora governatore Gianmario Spacca, assessore regionale alla salute. La sanità pesarese pensò di avere finalmente un alleato. Invece Mezzolani si rivelò un fido scudiero del presidente Fabrianese e mise la firma sul progetto di integrazione funzionale tra gli ospedali di Pesero e Fano e quindi tutto il processo di declassamento della sanità. Oggi, 2015, sembrò alzarsi l'asticella delle fortune pesaresi con l'elezione presidente della regione di Luca Ceriscioli, quindi potremmo tradurre insomma dai questa volta andrà meglio e invece ecco lo smantellamento, la firma per lo smantellamento degli ospedali minori. Insomma, questa è Fano, la pagina del Corriere. Pronti, statuto e piano industriale seri, non ci sono maxirisparmi. La Giunta ha inviato gli atti ai CDA delle due ASET e agli altri comuni soci. Dunque il nuovo piano industriale e lo statuto dell'azienda dei servizi che uscirà dalla fusione delle due società ASET sono stati presentati dalla Commissione dei Tecnici che li ha elaborati alla Giunta Comunale. Ora i due documenti devono essere approvati dai consigli di amministrazione delle due società entro il 30 di ottobre. Gli indigenti rinunciano alle cure. La Caritas svolge una fondamentale funzione di orientamento ai servizi sanitari. Alla salute si riferiscono il 6% delle istanze ricevute e il 17% degli interventi eseguiti. In questa immagine il taglio del nastro del Centro Salute Caritas, inaugurato soltanto qualche giorno fa. E poi tutte le novità pensionistiche sono state illustrate in un incontro a San Lazzaro, al Cubo, CGL e Cislewil hanno illustrato i miglioramenti ottenuti. Alla ricerca delle proprie radici, come ricostruire la genealogia, la biblioteca promuove un corso all'Università dei Saperi, scoprite se siete di radice nobile. È importante, può essere curioso, andare indietro nel tempo. Si inizia dalle fonti documentali conservate nel Comune e anche e soprattutto nelle parrocchie. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico, la Valle del Cesano. Il giallo dell'orso nella rotatoria. Foto sui social, scatta l'allarme. Panico per l'avvistamento sulla provinciale Barbanti, ma si tratterebbe di un grosso cane. La foto è ingrandita nel riquadro e poi l'originale scattata invece dall'auto. Insomma, un grosso cane, sembra davvero un orso, però l'incredibile tamtam su Facebook legato ad uno scatto tutto da verificare, tra l'altro ha generato paure ed ansie. Sulle sagre di qualità stati generali firmati umpli, convegno sabato con Minardi, Traversini, Fontana e Bonafede. Una notizia che arriva da San Lorenzo in campo. Poi l'altra pagina del Valle del Cesano da San Costanzo, Arquata sempre più vicina. Ricambierà a San Costanzo la visita della delegazione del paese colpito dal terremoto. Il vice sindaco Sorcinelli dice i rapporti sono intensi. Il 30 ottobre andremo noi a trovarli nel paese ferito, ad Arquata. Cacciatore, questa è la pagina di Senigallia, cacciatore ferisce un falco. Salvato da un bimbo di quattro anni. Il rapace finito nella siepe di una abitazione non riusciva più a volare. Ed eccolo qua, il piccolo Achille con il falco che è riuscito a salvare. La mamma dice Achille mi ha chiamata e siamo riusciti ad affidarlo a mani esperte. L'altra pagina di Senigallia, niente pass al cimitero. I disabili dunque restano fuori. Provvedimento che sarà valido da oggi fino al 5 di novembre. Ancora, la pagina di Pesaro e provincia. Eccola qui. Dopo Fano Music Story c'è adesso Pesaro Music Story. È la città dei musicisti. Il libro di Casisa ne racconta 750. La scena locale in 40 anni di fotografie e di storie. Il sindaco Ricci dice presto ne faremo una versione live, una versione dal vivo. Attenzione invece sui voucher, scattano i controlli, sanzioni da 400 a 2.400 euro. L'Inail sta incrociando i dati, la direzione del lavoro annuncia strumenti e ispettori. Ma poi invece guardate questa fotografia, sembra una scena di un film di Fantozzi. L'epilogo di una scena di un film di Fantozzi esce dalla concessionaria e si schianta appena arrivata, fiammante come il suo motore da 510 cavalli. Durante la prima prova la nuovissima Alfa Giulia Quadrifoglio si è schiantata contro le barriere protettive sonore dell'Interquartieri di Pesaro. Andiamo a vedere adesso invece il resto del Carlino. A pagina 6, Megas.net, l'ex ramo secco, produce e come? Produce utili, cantieri, investimenti anche utili. Alighiero Miccioli, che è alla guida di Megas.net, fondamentale, dice per noi il rapporto con i comuni. È un utile, ragguardevole, situazioni di cassa estremamente positive, rapporto tra oneri finanziari e il bilancio in progressiva diminuzione. È il consultivo semestrale del 2016 presentato ai sindaci dall'amministratore unico di Megas, Alighiero Miccioli, ed è lo specchio eloquente di una società in salute che si occupa dei servizi pubblici per 53 comuni. La pagina di Fano invece. Pompieri impegnati a recuperare cellulari, bisognerebbe cominciare a far pagare. Ogni anno sono centinaia i servizi gratuiti che impegnano i vigili. In media il costo minimo di un intervento si aggira intorno ai 200 euro. Fano corre, centro e mare blindati, domenica sono attesi a Fano 700 podisti. Ecco tutta la mappa dei divieti. E poi l'entroterra, che è una polveriera, spunta un'altra bomba, il settimo ritrovamento in un mese. È il periodo delle bombe nell'entroterra fanese, iniziato poco più di un mese fa, con il ritrovamento su un tettuccio di un vecchio ricovero per polli, a Centrocroci di Mondolfo, di un ordigno da mortaio, che poi è stato fatto brillare. E ieri ce l'è stata un'altra invece trovata vicino a Barchi, nella proprietà agricola di un contadino che stava facendo dei lavori in un terreno. La bomba, non so se riuscite, l'avete intravista, perché ha lo stesso colore della terra. Allora ve la evidenzio con l'evidenziatore appunto giallo, con il colore giallo. Ok, andiamo sull'altra pagina, l'ultima del resto del carlino. Fusione, fusione con il GRIP, primi ostacoli, c'è l'incognita di Montemaggiore. Allora, mentre va detto questo, che mentre a Saltara e a Serrungarina l'esito del voto al referendum consultivo, che ci sarà il prossimo 13 novembre, sulla nascita tramite fusione appunto del nuovo comune che si chiamerà Colli al Metauro, sembra che tutto sommato sarà scontato il sì, quindi tutti sono d'accordo a Saltara e a Serrungarina, c'è adesso l'incognita di Montemaggiore, con Cristian Bellucci che guida i contrari e dice i numeri forniti sui risparmi sono solo frutto di deduzioni, quindi tutto da capire. Mentre da Orciano, a Orciano oggi si festeggia la tripla cifra di Donato Campitelli, lo vedete nella fotografia, che è nato a Casolo in provincia di Chieti il 20 ottobre del 1916, però è qua nelle nostre parti dal 1957, insomma, compie 100 anni e quindi auguroni a nonno Donato. È tutto, grazie per aver seguito la vostra segna stampa, Occhio Giornali torna domani mattina alle 7.30, noi stasera ci vediamo per il telegiornale alle 20.30, con Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.